Col prossimo concerto di Capodanno la nuova orchestra Scarlatti sospenderà le attività per mancanza di finanziamenti. Il suo direttore artistico Gaetano Russo ha diffuso un appello alle istituzioni per il sostegno anche economico dell'orchestra. La consigliera Elena Coccia ha presentato oggi in consiglio comunale un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta alla tutela dell'orchestra napoletana, la cui chiusura, ribadisce la Coccia, provocherebbe un grave impoverimento culturale della città ma anche sociale e lavorativo. Il documento è stato sottoscritto da tutti i gruppi consigliari e approvato all'unanimità.